Ombre scure sull'Ama, l'azienda della mobilità aquilana, municipalizzata del comune. Tutto da rifare in commissione bilancio dove è assaltato il voto sulla ricapitalizzazione. Non si è votato insomma sulla delibera con cui la giunta lo scorso 23 ottobre ha dato il via libera alla ricapitalizzazione di Ama, l'azienda del trasporto pubblico locale. Non era presente l'assessore Mannetti, a quanto pare non invitata, mentre c'erano l'assessore alle partecipate Fausta Bergamotto, la dirigente del settore Ida Coluzzi e l'amministratore unico della società Gianmarco Berardi. Il consigliere Angelo Mancini di opposizione ha chiesto che venissero convocati anche il collegio dei revisori di Ama e l'assessore ai trasporti. Forza Italia ha appoggiato questa richiesta con Giorgio Di Matteis e così è passata con l'astenzione della Lega e di Luca Rocci. Un voto politico forte insomma, così si dovrebbe leggere. La ricapitalizzazione di Ama è cosa molto complessa. Un'operazione da 1,3 milioni di euro finanziata con una variazione di bilancio per la cui copertura si attingerà dal fondo perdite società partecipate. Soldi che si aggiungono ai circa 2 milioni di euro già versati nelle casse della società in un anno più o meno. Sul piano di ristrutturazione aziendale però sembrerebbero emergere le frizioni politiche degli ultimi tempi. Da un lato c'è la posizione della Lega che appoggia pienamente l'amministratore unico Berardi. Dall'alto c'è Fratelli d'Italia, partito dell'assessore Mannetti. Berardi ritiene l'azzeramento della contrattazione di secondo livello, una misura necessaria di cui già ha parlato con i sindacati, mentre la Mannetti ha sempre insistito sulla necessità di non venire meno alla parola data ai lavoratori. Fratelli d'Italia però, peraltro, sul tema pubblicamente non si è mai espresso. La Bergamotto ha chiarito che la ricapitalizzazione di certe un'operazione in salita, come settore partecipati ha spiegato, abbiamo chiesto al Collegio dei Revisori di esprimere un parere. Il Collegio avrebbe detto che il piano si è attuato può ottenere. Quanto all'azzeramento della contrattazione di secondo livello, l'assessore ha ammesso che si tratta di un'operazione impopolare, ma secondo lei è pure sbagliato far passare il messaggio che si vuole mettere la mano nella tasca di chi lavora. Si tratta di salvare in definitiva dei posti di lavoro, mentre l'altra strada è la liquidazione.